Cesare, siamo pronti a conquistare il mondo! Sì, Bruto, ma quello del cinema, vedere come si realizza un film, i costumi delle star... E allora andiamo a Cinecittà, tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30 e fino al 2 giugno nei weekend si anima pure il set dell'antica Roma! Ave, Cinecittà. A Cinecittà Studios, un'emozione da vivere e condividere. Metro A, fermata Cinecittà. Info Cinecittà si mostra punto it. Però Cesare ricorda che martedì è chiuso. Hai, Bruto, che coltellata mi hai dato!